Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono Eli e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. Per il caso di oggi ci troviamo in Florida, più precisamente ad Orlando, una città di circa 300.000 abitanti. Orlando è una città estremamente viva, diciamo così, molto frequentata e fornita di qualsiasi servizio possa venirvi in mente. Pensate che sono lì ad esempio gli Universal Studios, quelli che molto probabilmente vedete quando persone vanno a visitarli in America, molto probabilmente sono lì. A livello economico Orlando ha una posizione estremamente invidiabile, ha un tasso di disoccupazione del 2% che è tra i più bassi dell'area. Nel 2007 ad Orlando viveva una ragazza di nome Griselda Cassamayor. Griselda era in realtà nata nella Repubblica Dominicana, ma era emigrata insieme alla sua famiglia quando era ancora molto piccola in cerca di un futuro migliore. Crescendo Griselda diventò una ragazza estremamente estroversa, molto sicura di sé, si fece un sacco di amicizie, infatti nel tempo libero solitamente era sempre fuori, insomma in qualche locale, magari in centro con gli amici. La famiglia di Griselda riuscì fortunatamente a stabilirsi economicamente abbastanza in fretta, in particolare lo zio di Griselda diventò un chiropratico e ottenne anche, riscosse anche un discreto successo, infatti in poco tempo creò e aprì il suo studio appunto dove svolgeva la professione di chiropratico. E anche Griselda crescendo iniziò ad appassionarsi alla professione dello zio, infatti iniziò a studiare per diventare un chiropratico e iniziò anche a lavorare a tempo pieno, insomma, nella clinica dello zio in modo da fare più esperienza sul campo possibile. Il suo sogno era quello appunto di diventare chiropratico, imparare magari un po' dallo zio, lavorare ancora per qualche anno lì, dopodiché aprire uno studio tutto suo. Negli anni questo studio iniziò ad andare parecchio bene, aprirono nel 2000, iniziò prima a lavorarci solo lo zio, poi anche la zia, insomma, la moglie di questo signore, poi iniziò a lavorarci Griselda e nel 2005 avevano bisogno di un altro impiegato. Quindi dopo diversi colloqui di lavoro trovarono il candidato perfetto. Assunsero Danny Rivera, che era un ragazzo che faceva già il massaggiatore professionista. Danny al tempo viveva con la sua fidanzata, con la quale aveva fatto un sacco di progetti per il futuro, tutte e due lavoravano, volevano mettere da parte per acquistare una casa, dopodiché iniziare una famiglia. Nel 2006 Danny aveva anche fatto la proposta di matrimonio a questa ragazza, quindi nel 2007, cioè quando ci troviamo noi, stavano pianificando appunto per affittare il posto dove sposarsi, organizzando tutto il matrimonio. Il 2 luglio del 2007 mattina Griselda, come tutte le mattine insomma durante la settimana, uscì di casa per andare appunto in macchina alla clinica dello zio dove lavorava. Raggiunse la macchina che aveva parcheggiato lì vicino, però non riuscì ad accenderla, c'era qualche problema al motore. Chiamò allora sua cugina Daphne, che per coincidenza lavorava vicino a lei e le chiese appunto di darle uno strappo a lavoro. Daphne ovviamente accettò, si presentò pochi minuti dopo e alle 8 in punto Griselda arrivò a lavoro. Quel giorno nella clinica ci sarebbero stati appunto solo lei e Danny. Griselda salutò la cugina, rimasero insomma in accordo per pranzare insieme, solitamente Daphne, sua cugina, veniva a fare la pausa pranzo con lei e Danny. Quindi arrivata l'ora di pranzo, pranzarono insieme, poi ognuno ritornò al suo lavoro. Il piano poi sarebbe stato di nuovo incontrarsi alla clinica per riaccompagnare Griselda ovviamente a casa, che ancora non aveva la macchina. Verso le 18 meno 5 la zia di Griselda, la moglie appunto del proprietario della clinica, arrivò in ufficio perché voleva prendere alcuni libri che le sarebbero serviti per il giorno dopo. Non appena entrò nell'ufficio, vide subito Danny che sembrava come accasciato, svenuto sul computer. La donna ovviamente pensò subito a un qualche tipo di malore, quindi si avvicinò per cercare di svegliarlo, ma insomma avvicinandosi e toccandolo si rese conto che aveva una grossa ferita alla testa. Questa signora chiamò Griselda che sapeva dovesse essere appunto nella stanza di fianco per farsi aiutare, ma nessuno rispose e a questo punto era palese che ci fosse insomma qualcosa di grave, molto grave che era accaduto. Di conseguenza questa signora uscì dallo studio, chiamò la polizia e aspettò insomma i poliziotti prima di entrare di nuovo. La polizia arrivò pochi minuti dopo, purtroppo confermarono il fatto che Danny era deceduto ormai da qualche tempo, quindi non c'era più niente che si potesse fare per lui. Dopodiché ispezionarono il resto dello studio per cercare Griselda e purtroppo la trovarono sotto una scrivania in una delle stanze dello studio e aveva evidentemente quattro colpi di proiettile al petto. In realtà Griselda a questo punto era ancora viva, quindi viene trasportata d'urgenza all'ospedale ma morirà pochi minuti dopo essere arrivata lì. Da ulteriori analisi venne fuori che anche la ferita alla testa che aveva Danny era stata causata da un proiettile e la situazione di Danny era diversa rispetto a Griselda perché sembrava quasi una sorta di esecuzione. Cioè probabilmente il ragazzo non se n'era neanche accorto perché stava giocando al gioco, sapete, il solitario, infatti c'era ancora il gioco aperto sul computer. E lui era stato colpito da dietro, quindi con ogni probabilità non se n'era neanche accorto. Sulla scena del crimine non c'erano prove da nessuna parte, l'unica cosa certa era che non si poteva trattare di una rapina finita male perché c'erano ancora tutti i soldi in cassa, c'erano ancora tutti gli apparecchi computer o comunque apparecchi per massaggi che comunque sono costosi, non era stato rubato niente. In più non c'era nessun segno di scasso né alla fine alle varie finestre né alla porta principale, quindi chiunque fosse stato l'assassino o gli assassini erano entrati tranquillamente dalla porta d'ingresso. Non erano neanche molto sicuri di quando fosse avvenuta questa aggressione perché non c'erano videocamere di sorveglianza. Di conseguenza per cercare di isolare una sorta di finestra di tempo controllarono i tabulati telefonici di Danny e a quanto pare l'ultima chiamata che aveva effettuato era stata alle 17 e 21 quando aveva contattato la sua fidanzata. Quindi sicuramente a quell'orario lì era ancora vivo. La zia di Griselda era arrivata pochi minuti prima delle 18, in più riuscirono a trovare un'altra persona che era una signora che avrebbe avuto un appuntamento quel giorno in realtà alle 17 e 45, solo che si era presentato allo studio, aveva suonato il campanello ma nessuno le aveva aperto. Di conseguenza molto probabilmente tra le 17 e 21 e le 17 e 45 era accaduta insomma l'aggressione. Inoltre in realtà all'inizio iniziarono a pensare che magari si potesse trattare di qualche tipo magari di avvertimento o cose del genere nei confronti dello zio di Griselda. Magari aveva insomma le mani in cose losche, magari si era fatto dei debiti, magari aveva chiesto un prestito in maniera non tradizionale, magari a persone invischiate un po' in cose strane. Insomma ci fu quel tipo di ipotesi per un certo tipo di tempo, solo che controllarono tutti gli affari di dello zio e di questo studio e non c'era niente che potesse evidenziare qualcosa di illegale dietro. Inoltre ragionando sui due attacchi, cioè a Danny l'hanno colpito da dietro, non se ne è neanche accorto, a Griselda le hanno sparato da davanti ben quattro volte. Iniziò a venire fuori l'ipotesi che magari l'aggressore o gli aggressori avevano qualche conto in sospeso con Griselda e che Danny fosse una morte diciamo collaterale della situazione. Iniziarono interrogando il fidanzato di Griselda perché ovviamente come in ogni caso il primo o la prima sospettata sono i fidanzati, i mariti, i mogli insomma, i compagni diciamo delle vittime. Questo fidanzato però, allora in primo luogo stava insieme a Griselda da davvero poco, tipo un paio di mesi. In secondo luogo, quando appunto gli raccontarono, gli dissero quello che era accaduto, sembrava sinceramente scosso dalla morte di Griselda. In terzo luogo, quel giorno si trovava al lavoro, lo confermarono non solo i suoi colleghi e il suo datore di lavoro ma anche le videocamere di sorveglianza. Chiesero anche alla famiglia sia di Griselda che di Danny e per quanto ne sapevano loro non avevano nemici, erano ragazzi per bene, non giravano in compagnie strane, non frequentavano persone o posti poco raccomandabili. Insomma a questo punto sembrava davvero che la ragione dietro quegli omicidi fosse magari uno squilibrato, una persona che aveva fatto una cosa del genere per tra virgolette divertimento, cioè senza una ragione effettiva per farla. Purtroppo in alcuni casi di cui abbiamo parlato ci sono persone che lo fanno per soddisfare chissà che tipo di pulsione o di fetish, insomma che hanno senza un'effettiva ragione o un collegamento con la vittima. E in realtà questa rimase l'ipotesi principale fino a nove giorni dopo gli omicidi. La madre di Griselda stava, insieme appunto ad alcuni suoi parenti, stava suotando l'appartamento di Griselda ovviamente per liberarlo perché la ragazza viveva in affitto. E nel mentre appunto che stava cercando di capire cosa tenere, cosa non tenere, cosa buttare, cosa vendere, aveva iniziato a svuotare una cassettiera della ragazza. E aveva trovato un bigliettino tutto appallottolato e nascosto sul fondo con un messaggio scritto da Griselda. E sopra c'era scritto qualcosa di davvero inquietante che traumatizzò abbastanza questa signora. C'era scritto se mi è capitato qualcosa è stato Drinel Joseph. Questo nome non era per niente nuovo alla famiglia e agli amici di Griselda. Nell'agosto del 2006 lei e alcuni suoi amici erano usciti insomma la sera per passare una serata in un club appunto di Orlando. Durante questa serata un ragazzo ci provò con lei, un ragazzo proprio di nome Drinel Joseph. Questo ragazzo ci aveva provato diciamo spudolatamente con lei e in realtà Griselda solitamente questo tipo di approcci non piacevano, almeno secondo quanto raccontato dai suoi amici. Ma quel ragazzo in particolare l'aveva colpita, era comunque un bel ragazzo, vestito bene. Insomma le era piaciuto nonostante magari il modo poco carino di approcciarla. Di conseguenza alla fine della serata le aveva lasciato il suo numero e nelle settimane successive aveva iniziato prima a messaggiare, poi a parlare al telefono e si erano trovati molto bene da subito. Erano anche usciti un paio di volte, insomma ve la faccio breve. In pochissimo tempo Griselda si innamorò follemente di questo Drinel. In realtà Drinel non era di Orlando, era di una città a circa quattro ore di macchina da Orlando che si chiama Olmsted e ogni settimana, tutti i weekend, si faceva queste quattro ore di viaggio solo per vedere Griselda. I due uscivano insieme, lui la riempiva di attenzioni, di regali, i classici stadi diciamo di una relazione all'inizio. Drinel aveva sicuramente già un passato, aveva un matrimonio precedente dal quale aveva avuto due figlie. E questa cosa però non bloccò in nessun modo la relazione con Griselda, anzi a Griselda piacevano tantissimo i bambini e in pochi mesi nella relazione la donna conobbe anche queste bambine. Iniziarono a passare sempre più tempo insieme, fatto sta che in meno di un anno, diciamo bruciarono decisamente un po' di tappe, perché in meno di un anno Drinel lasciò il suo lavoro ad Olmsted, prese un lavoro in un ristorante, in una stick house ad Orlando e si trasferì in pianta stabile da Griselda. E gli amici e la famiglia di Griselda erano un pochino preoccupati dal fatto che la ragazza stesse andando diciamo molto veloce con questo ragazzo che aveva appena conosciuto. Però la relazione da fuori sembrava effettivamente una relazione per bene, cioè Griselda sembrava felice, era molto serena. Quindi nonostante sì sicuramente stessero un po' correndo tanto, nessuno della sua famiglia o dei suoi amici le disse mai niente, nonostante avessero le loro riserve. Pochi mesi dopo il loro trasferimento insieme Griselda rimase incinta e fu una notizia che sorprese molto positivamente sia lei che lui. A Griselda come dicevo piacevano molti bambini e poi aveva da sempre sognato di diventare madre, quindi è una cosa che comunque la rese molto felice. Purtroppo però dopo due mesi di gravidanza ebbe un aborto spontaneo, cosa che fu ovviamente molto molto dura per Griselda. Quindi passò sicuramente un periodo un po' buio lei, al contrario Drinel per qualche motivo non sembrava molto toccato da questo aborto spontaneo. E non solo, non fu molto di supporto per Griselda che come vi dicevo appunto aveva preso molto male questa situazione. E questa cosa chiaramente fece molto arrabbiare Griselda. Da qui in poi la relazione inizia a sgretolarsi molto velocemente così come si era creata. Fino a raggiungere il culmine nel dicembre del 2006 quando Griselda decise di lasciarlo dopo aver scoperto che in realtà Drinel era tecnicamente ancora sposato con la sua, quella che aveva sempre definito ex moglie. Cioè lei sapeva appunto che c'era stato un matrimonio precedente ma lui le aveva detto che avevano già divorziato. Invece a quanto pare no, all'inizio le disse che in realtà si erano solo separati, insomma che comunque non stavano più insieme. Poi Griselda diciamo indagando per bene scoprì che in realtà aveva ancora una relazione con quella che era sua moglie. Quindi tecnicamente lei era l'amante. Cosa che spiegò probabilmente il motivo per cui non fu toccato tra virgolette dall'aborto spontaneo che aveva avuto Griselda. In ogni caso lei lo lasciò, lui ci rimase molto male, tentò di convincerla insomma che sarebbe cambiato, che avrebbe lasciato sua moglie, insomma le classiche cose che si sentono ovunque. Fatto sta che Griselda fu irremovibile dopo un po' di tempo, nel 2007 già Drinel sembrava essersi, insomma, di averci messo una pietra sopra, non la contattava neanche più. Griselda era andata avanti dopo la rottura da questa relazione e nell'estate del 2007 aveva conosciuto un altro ragazzo, quello con cui appunto era fidanzata al momento della morte. Con questa informazione, cioè con questo biglietto scritto se mi capita qualcosa è stato Drinel, la polizia interrogò tutti gli amici della ragazza per cercare di capire qualcosa di più di questo Drinel. E alcuni degli amici della ragazza dissero che effettivamente nell'ultimo periodo Drinel aveva riniziato a chiamarla al telefono per cercare di convincerla a tornare con lui. E una ragazza in particolare, che era la migliore amica in assoluto di Griselda, raccontò che alcune settimane prima degli omicidi erano stati a un festival, a Miami, un festival della musica. E Griselda le aveva raccontato che Drinel era diventato estremamente geloso e possessivo nonostante non stessero più insieme da un bel po' di tempo, quindi giustamente Griselda era liberissima di farsi un'altra relazione, un'altra vita. E aveva detto anzi che l'aveva contattata per insultarla dopo aver visto delle foto che aveva messo su Facebook con il fidanzato appunto dell'epoca. Questa stessa amica aveva assistito a una chiamata che aveva fatto Drinel a Griselda quando appunto si trovavano a Miami per questo festival e questa amica aveva sentito dal telefono che lui le diceva una roba del tipo se non ti posso avere io non ti deve avere nessuno. Si era ovviamente preoccupata di questa frase, ne aveva parlato con Griselda ma Griselda le aveva detto di non preoccuparsi che erano cose che diceva così che ultimamente diceva molto spesso. E a quanto pare ovviamente non abbiamo amici o persone che abbiano assistito a questa cosa ma tenendo conto di quel foglietto che è stato trovato, cioè se mi capita qualcosa è stato Drinel. Evidentemente questo ragazzo l'aveva fatto delle minacce ben più gravi del se non ti posso avere io non ti avrò nessuno, probabilmente l'aveva minacciata molte più volte. Drinel venne interrogato ovviamente e non venne interrogato solo lui ma anche insomma alcuni suoi amici e suoi parenti. E venne fuori una cosa un po' sconcertante ovvero che gli amici e i parenti di Drinel erano convinti che la stalker tra virgolette della situazione, cioè la persona che non riusciva a farsi una ragione della fine della loro relazione fosse Griselda. Cioè i suoi amici e la sua famiglia Drinel aveva raccontato che era Griselda la pazza furiosa che lo contattava, lo minacciava, voleva tornare con lui, gli faceva la posta al lavoro e cose del genere. E questa versione tra virgolette lui la sostenne anche con la polizia, anzi racconto loro che per lui quella con Griselda era stata solo una, e la defini così, un'avventura extraconiugale molto divertente. Cosa che non dico che non esistano persone che fanno queste cose perché ce ne sono tantissime, però non combaciava molto con la storia, cioè con quello che era accaduto. Perché quest'uomo aveva addirittura lasciato un lavoro ad Homestead, aveva trovato un altro lavoro ad Orlando, semplicemente per andare a vivere da Griselda. Quindi la versione dell'avventura, così tanto per farsi appunto un'avventuretta extraconiugale, non combaciava molto col fatto che questo avesse lasciato un lavoro e si fosse trasferito ad Orlando per Griselda. Procedettero dunque col chiedergli un alibi ovviamente, e lui disse di essere stato al suo posto di lavoro ad Homestead dalle 8.30 fino alle 12, poi aveva litigato con il capo, se n'era andato, aveva raggiunto un suo amico che aveva un negozio che riparava auto per aiutarlo a cambiare delle gomme, dopodiché era tornato a casa alle 16. Ovviamente un alibi va valutato dalla polizia, va confermato, quindi andarono da questo amico che aveva una sorta di carrozzeria e gli chiesero quando quel giorno Grinel fosse passato da lui. E lui disse appunto che si ricordava benissimo che quel giorno era passato ad aiutarlo a montare delle gomme, ma che se n'era andato alle 11.30 del mattino, dando tutto il tempo a Grinel di farsi le 4 ore di auto per arrivare ad Orlando e uccidere Griselda e Danny. Quindi già comunque mentira alla polizia non è proprio la migliore delle idee. In secondo luogo a questo punto decisero di guardare i tabulati telefonici di Grinel e grazie al GPS insomma riuscirono a collocarlo all'ora degli omicidi nell'isolato dove si trovava la clinica dove lavoravano Griselda e Danny. A questo punto con questi dati, cioè con la bugia e i dati del suo telefono, parlarono di nuovo con Grinel e davanti all'evidenza Grinel confessò. Disse appunto di essere andato alla clinica, aveva suonato, si era fatto aprire, aveva detto a Danny che doveva parlare con Griselda che era un suo amico, quindi Danny non solo l'aveva fatto entrare ma lo aveva fatto andare, gli aveva detto dove si trovava, in che stanza si trovava Griselda. Non appena Grinel lo aveva superato, gli aveva sparato da dietro, era entrato nella stanza di Griselda, Griselda ovviamente si era messa ad urlare nel momento in cui aveva visto Grinel alla clinica e lui le aveva sparato appunto i quattro colpi al petto, dopodiché se ne era andato. Nel maggio del 2008 inizierà il processo, lui si dichiarò colpevole ma si rifiutò di dire qualsiasi tipo di cosa, ritrattò quello che vi ho appena detto, cioè il fatto che era andato, aveva suonato eccetera, disse che non si ricordava, non lo so, diede un no comment praticamente a ogni tipo di domanda, però si dichiarò colpevole. Alla fine del processo lo condannarono all'ergastolo e anche il caso di oggi si conclude così, di nuovo adesso non so se è già uscito, dovrebbe essere già uscito però ho trattato di recente un altro caso in cui purtroppo viene messa in mezzo a situazioni in cui non c'entra niente una persona come in questo caso è stato Danny, che se è molto triste in generale un qualsiasi tipo di omicidio, quando appunto si tratta di vittime tra virgolette sempre collaterali, secondo me è ancora più triste. Grazie come al solito di essere arrivati fino a questo punto del video, se vi va lasciatemi un commento, fatemi sapere cosa ne pensate del caso, se volete sostenere il canale ricordatevi anche di iscrivervi, lasciare un mi piace, attivare la campanella delle notifiche, se volete potete seguirmi anche su Instagram, mi trovate come Elie Capano o su TikTok mi trovate sempre come Elie in Crimeland. Per il caso di oggi era tutto, noi ci rivediamo con un prossimo video. Grazie a tutti.